Anthony, senti qua, ti devo fare una domanda di vita, di morte, di miracoli e misericordia. Ma adesso la nostra vita come andrà avanti? In che senso? Continuerai a cagare? Certo. E pisciare? Non fare. Mangiare? Certo. Vomitare? Pure, pure. Dormire? Pure. Ai, non so più come si fanno queste cose. Adesso provo ad andare a fare di la cacca per vedere. Devo però pensare a qualche cosa. No, andrò molle così. No, di sto passo vado molle. Comunque smetterò di pulire casa, smetterò di lavarmi, di farmi la doccia, il bidei, devo farmi crescere i ragni. Spider-Man mi deve venire a trovare di sotto. Ti faccio vedere io. Perché come sono stata presa da Lorda, ora la Lorda la devo fare veramente. Bella, almeno mi rilasso con gli anticorpi. Mi rilasso con gli anticorpi. Mi rilasso.